inizia il secondo giorno qui a madrid un po in ritardo perché sono le 11 e 56 non importa gli stessi andati a letto tardissimo perché ho finito di editare un video però siamo già arrivati al museo del prado adesso entriamo e ve lo mostro se posso chiaramente 15 euro di biglietto e non si può neanche registrare dentro raga non mangiamo da ieri sera quindi pausa mac e dopo il museo del prado come vi ho detto non potevamo registrare niente dentro comunque mangiamo e poi ci aggiorniamo più ragazzi siamo il tour di icono è tipo un museo di vista agammabile ci fai foto incredibili e adesso intiamo il tour e sarà una figata incredibile e adesso metto giù che ci facciamo un po di foto ma sei uscito è uscito lo è che cazzo è? è un poio è un poio sei qua? è? non vedi un po' è un po' no è un po' oh ah 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 Mi sto toccendo il cuore Ecco, 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 vedo l'uscita Ma il signor è arrivato apposta E cosa devo fare? Mi stanno toccendo Ti passo il telefono, mi fai un video Ok, per un paio, per un altro dietro Nooooo Spacca un botto sta roba Mettiti Ma dove cazzo? Dove sei? Non so Se ti metti un luogo disteso Profondi sotto Adesso provo ad andare e porto giù il telefono con me Non vado giù Non vado giù io Mi vedi? Si Sono qua Oh-oh co- C***o Aia, così mi mette i capelli Ti ho toccato Oh-oh-oh, sul c***o Ora è difficile Ora è difficile dismalzarsi Poi incerciò il tuo cazzo di schiene No, lì si scoprò No, lì si scoprò No, lì si scoprò Dai, ma figata, sarei qua sotto il soggiorno Porca putta Starei qui dentro tutto il giorno No, Ale, ma è difficilissimo 3, 2, 1 Finocchio Adesso andiamo avanti Per la strada che è Elevate yourself Che dipinto è stesso Finora top è solo la prima stanza ragazzi Quindi mi fatti il foto tipo con le ali Questa è una foto con le ali Si Si vede come sono rischiato Non si fermò Eh ci sta Comodo? Non so, è tipo Potrebbe essere la trattura Stare qua dentro Così una settimana qua dentro Adesso sto da dire Una settimana forse tanto Adesso io sto da dire Si Oh ma che figata è Raga mi sento poisonavi Che figata vecchio Porca vacca E che figata è? È una foresta Eh è tutto un gioco di specchi In realtà Eh ma ci sono le frecce Non so se ci sono le frecce O i bozzettini bianchi Che abbiamo lanciato un secondo fa E tutti li usano come Si Probabilmente si No sai cosa c'erano gli specchi Così sembra infinite Eh infatti Ti da Penso di Boh Sei perso Posso dire di aver visitato la Cina Ma prima No che figlio Senza di non sbagliare la strada Va bene è difficile Beh guarda che Si però Sembra in realtà Che hai due vie Questa la usiamo come intro del video Come se non si vedesse Io ho paura degli specchi Magari ce ne sono Fa caldo qua dentro Non è morire Non vuole una foto qua Si vede qualcosa o no? Poi ci salta Andiamo a giurare Ma che figata ragazzi Sto posto Enorme Altro di che Ma altro che Museo del plano Che cazzo Avevo visto Prima di quadri Ma dai Belle volte Anche qua Sto posto Si Quella Nelassante Boy power No Vai giù qua dentro Dai Sulla vasca Questa è strada Elite Si Come la faresti Ti va Vedi di dentro Con le gambe fuori Si Ho anche Ho anche con una gamba Metti una giù E una su Così 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 spacca Dopo il museo Lo chiamo museo Ma si chiama Iconò Andiamo al parco Del ritiro Sarebbe strafigo Visto che abbiamo visto Di video E si può fare Il giro in barca Ma guardando su internet C'è scritto Temporaneamente chiuso Peccato Vedremo comunque Se è aperto Ma comunque c'è tanto Alto da vedere qui Quindi Continuate a guardare il video E non rompete i coglioni Su questo laghetto qui Dovevamo fare il giro Con le barchette Però mi sa che si può Solo in estate Infatti Sono tutte chiuse Però sarebbe stata una figata Però incredibile Bellissimo Secondo giorno Ma il mezzo di trasporto principale Non cambia Un bel coltra E andiamo alla fabbrica della moneta Siete pronti? La vera zecca di stato di Spagna Questa è la vera Non come quelle della casa di carta Questa è la originale Questa volta Non abbiamo rischiato Praticamente niente A parte di Spaccare un finestrino A una macchina Però nulla di grave Stavolta Se state pensando E l'altra volta Cosa è successo Vuol dire che non avete visto Il primo video Che è uscito qui a Madrid Quindi andatevelo a recuperare Il primo giorno Questo è il secondo E siamo quasi arrivati Due minuti a piedi E siamo lì Ecco ragazzi Questa è la vera zecca di stato Non quella che vediamo Nella casa di carta Però questa è l'originale È immensa Non si può entrare Chiaramente L'abbiamo vista Adesso siamo andati anche a fare Un piccolo break Da Starbucks Vi farò vedere cosa ho preso Pensavo di prendere Un piccolo frappuccino Ma in realtà ho preso Un bestione enorme Starete vedendo la foto Che mi ha riempito un sacco Però adesso prendiamo di nuovo Il motorino E ci spostiamo Verso una nuova meta Siamo arrivati al palazzo di Cibele Penultima meta di oggi Incredibile È il bel vedere del palazzo Adesso saliamo su Dalle finestre Perché l'ultimo piano è chiuso Alle sette chiudeva Quindi non abbiamo più tempo Però dopo aver visto quello Andiamo a mangiare Per poi andare a fare L'ultima meta di stasera Al museo delle illusioni Quindi continuate a guardare il video Che ve lo dico a fa Ma che dottica fa Sembra una pazzia Ma è la vita mia Non si fa capire Forse ne abbiamo buttate Leggermente troppa Mezzo chilo Pensavo fosse molto meno E in caso la lasciamo Lì Ma adesso mangiamo Ci abbiamo anche Guardate 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 No dove è andata Eccolo qui Il pata negra iberico Lo assaggiamo anche adesso Quel pata negra Andiamo all'assaggio Buonissimo Mangate solo quello Qua c'è la pasta Ne ha avanzata tipo un po' Però vabbè Mangiamo un po' l'appetito Ci sei Giusto Prova a spessarci un po' in qua Ok Top Non c'è nessuno Chi è la prima Per una volta Potrei essere alto Come me No È la prima volta In tutta la mia vita Che sono più basso Di una persona È la prima volta Che figata Io metto il gioco Ma che possibilità c'è Vediamo questa Che cazzo Mi sono cagato addosso Mi sono cagato Ma si è tirato No No Stiamo tirando No Mi tira la testa Mi tira la testa No No Mi tira la testa Mi tira la testa Mi gira un po' la testa Oh mio dio Io muoio Ma si va veramente Ma è mortale No vabbè Ma io muoio Sto sboccando No no Mi sento male Mi sono sentito male Quanti bei tosati Quantos guapo chicos La santa infinita Concludiamo qui il video Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi Se è così Lasciate like e commentate Se vi va Ci vediamo domenica prossima Col terzo giorno di Madrid Un bacione Oh iè, 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 iè Palacca Segurando qui il tralacca Grazie a tutti.